La perturbazione che sta interessando tutta Europa nei prossimi giorni arriverà anche nel sud Italia, caratterizzata stando alle previsioni di un repentino calo delle temperature con il termometro che in alcune zone arriverà anche a meno 10 gradi. E le prime avvisaglie di questa perturbazione sono state già segnalate in provincia di Foggia, dove pioggia e neve stanno interessando quasi tutto il territorio. Intanto la neve ha già fatto la sua comparsa sui rilevi al di sopra dei 6-700 metri. Nevicate sono state registrate sui monti di San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e San Marchillamis, ma anche nelle zone del sub Appennino d'Auno, come Faeto, Biccare, Osorio del Fortore e Montenegro di Puglia. Ancora una volta disagi sono stati registrati sulle provinciali come la 22 tra Lignano Garganica e San Marchillamis, dove la circolazione stradale è resa difficile dalla neve caduta. Oggi e molto probabilmente domani saranno giornate di tregua. Questa mattina sono ripresi anche i collegamenti via mare con le isole tramite interrotti nei giorni scorsi per le avverse condizioni meteomarine. Ma già da domenica le temperature torneranno ad abbassarsi e tornerà anche pioggia e neve.